Musica Posso proporvi di iniziare con un po' di champagne? Io devo guidare, prendo solo dell'acqua. Senza limone. Senza limone. Sì. Bene. Cavolo se è buono! Eh sì. Salute! Peccato che tu non possa bere. Ma ha senso poi, secondo la teoria di un filosofo norvegese, gli esseri umani nascono con un contenuto di alcol nel sangue troppo basso. Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere la mia autostima. Tutti potremmo, anche tu potresti. Una bella idea, eh? Anch'io posso. Facciamolo. Studio. Consumo giornaliero di alcol che mantenga un tasso costante di 0,05 allo scopo di raccogliere le prove degli effetti psicologici e psico-retorici e osservare l'incremento del successo in campo sociale e professionale. Bevendo solo nell'orario di lavoro. Come faceva Hemingway. Non si beve dopo le 8 di sera e nei weekend. Siete pronti? Sì! Tutti in piedi! Ok! Sì! Non mi sentivo così bene da anni. E secondo me può andare ancora meglio. Forse dovremmo aumentare un po'. Alziamo il livello. Sei ubriaco? No, perché? Spiega ai ragazzi cos'è successo. Ieri ho bevuto un po'. Va bene sperimentare, ma mi sembra che siate andati un po' troppo oltre. Qualcuno di voi ha un problema di cui dovrei essere a conoscenza? Alla prossima! What a night! What a night! What a beautiful, beautiful ride! Come on! Oh no where I'm in vibe, but I'm young and alive. Achano! Fai putei a sang it all alive. Alla prossima! It's not time!